Professor Ainardi, preside del Desambrois di Ulx, ha lei il compito di sponsorizzare la scelta del liceo? Grazie, sono preside di una scuola che ha quattro indirizzi liceali, un liceo scientifico, un liceo scientifico sportivo, un liceo linguistico con ESABAC, un liceo classico della comunicazione. Sicuramente la scelta del liceo è privilegiata da tutti i ragazzi che sono curiosi di apprendere materie anche diverse rispetto a quelle che hanno studiato nella scuola media e non hanno paura della scuola, non hanno paura dell'impegno, leggono volentieri e così via. E' bene comunque che anche nella scelta del liceo venga fatta una scelta in positivo, e cioè si sceglie un indirizzo per quello che ha di ricchezza e non perché ha meno magari materie di altro tipo. Questo è perché la motivazione allo studio, che comunque in un percorso di cinque anni, che apre poi ancora un approfondimento di tipo universitario, è bene appunto che parta nel modo migliore e anche più positivo possibile.